Umile e onesta, non si può definire altrimenti la confessione di Amadeus, che sulle pagine di Libero commenta i suoi numerosi salti di rete in rete, fino al ritorno in Rai alla conduzione di reazione a catena, sostituendo il conduttore storico Pino Insegno. Se quest'anno ha infatti tenuto a banco la riflessione su quanto un conduttore influisca o meno sul successo di uno show, vedi la staffetta tra Bonolis e Scotti, Amadeus si dice convinto che la figura al timone di una trasmissione sia irrilevante. Il game show è il mio genere televisivo preferito, io non sogno il prime time ma il preserale, dichiara il conduttore. Credo che reazione a catena sia una buona trasmissione, a prescindere da chi sta alla conduzione. Personalmente ho cercato di dare il massimo come sempre, io ci metto tutto l'entusiasmo possibile, il merito non è solo mio, c'è una squadra di bravissimi autori dietro e se io ho l'onore di stare alla guida della trasmissione è perché il direttore Giancarlo Leone mi ha voluto, per questo lo ringrazio. Lasciare l'eredità per tornare a Mediaset aggiunge poi Amadeus, no non lo rifarei, anzi da quell'esperienza ho imparato che non lascerò mai più nulla, o mi cacciano il resto al mio posto, ho maturato questa consapevolezza dopo quella scelta che col senno di poi si è rivelata sbagliata. Lasciare l'eredità perché sono amante del cambiamento e perché non sono uno di quelli che si inchioda su una poltrona senza mettersi più in discussione. Penso non sia rispettoso nei confronti di se stessi e del pubblico, a volte questo spirito mi ha fatto andare incontro ad alcuni errori che ho pagato sulla mia pelle.